Dal lavoro alla scuola, dalle palestre agli aerei. Dal 1 maggio cambiano le regole legate all'uso di mascherine e Green Pass e cadono molte delle restrizioni applicate fino a ieri per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid che hanno modellato le nostre abitudini e cambiato i nostri stili di vita. La nuova fase dell'emergenza sanitaria in cui l'Italia entra da oggi prevede che il Green Pass non venga più esibito per entrare nei locali pubblici. Senza certificazione verde dunque si potrà andare ovunque a eccezione delle strutture sanitarie dell'RSA dove sia lavoratori che pazienti e visitatori dovranno munirsi di Green Pass. Anche per viaggiare e utilizzare mezzi di trasporto pubblico non sarà più necessario esibire la certificazione verde con l'eccezione degli aerei dove fino al 31 maggio rimangono le regole europee che impongono il Green Pass base per chi vola. Niente più certificazione neppure per i lavoratori ma l'obbligo vaccinale resta in vigore fino al 31 gennaio per il personale sanitario e fino al 15 giugno per gli over 50, le forze dell'ordine e il personale scolastico. Sul fronte mascherine la novità è che da oggi in moltissimi luoghi non sarà più obbligatoria anche se sono diverse le eccezioni. La mascherina si raccomanda soprattutto al personale a contatto con il pubblico o allo sportello senza barriere, ai lavoratori che svolgono prestazioni in stanze in comune con altre persone, negli ascensori, quando si è in fila e quando si condivide la stanza con persone fragili. Negli uffici pubblici gli utenti invece possono indossare la mascherina ma non ne hanno l'obbligo. E anche tra i lavoratori del settore privato l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza si rifà ai protocolli aziendali che valgono anche per il personale di negozi e supermercati mentre i clienti possono decidere di indossare o meno la mascherina così come per entrare in bar e ristoranti. Se il Green Pass cade per viaggiare resta invece in vigore l'uso della mascherina su tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza e su quelli del trasporto pubblico locale dove si dovrà indossare la FFP2 fino al 15 giugno. Anche a scuola la mascherina resta obbligatoria fino alla fine dell'anno scolastico e per tutti gli studenti che abbiano più di sei anni. Palestre, piscine e circoli seguono le regole decise in accordo con i titolari per l'uso dei dispositivi di sicurezza per il personale mentre i clienti non hanno più l'obbligo di indossare la mascherina. Cinema, teatro e altri luoghi di spettacolo conservano l'obbligo della FFP2 per gli spettacoli al chiuso e per gli eventi nei palazzetti dello sport fino al 15 giugno mentre lo stadio si può entrare senza mascherina che torna però a essere obbligatoria qualora si configurino assembramenti anche in caso di eventi all'aperto come per concerti e manifestazioni di piazza. Fin qui le nuove regole. Il buon senso invece è e resterà sempre in vigore a descrizione di ciascuno.